Benvenuti su Dealflower, siamo oggi ospiti nell'headquarter di Italian Design Brands in compagnia di Andrea Sasso, Chairman e CEO di Italian Design Brands e Giorgio Gobbi, Managing Director. Siamo qui per parlare un po' del stato dell'arte del mercato del design, quindi inizierei subito con Andrea chiedendogli appunto come è cambiato questo mercato anche dopo la pandemia e quali sono le peculiarità di questo mercato ad oggi. Ok prima di tutto ciao, il mercato in questo momento è un mercato che sta vivendo una situazione molto buona nonostante la pandemia e ci sono delle spiegazioni secondo me, diciamo che ci sono dei mega trend che si sono verificati già nel passato e quindi prima la pandemia, altri che invece sono stati accelerati durante la pandemia stessa. Quindi una ricerca della qualità del design italiano sia intesa come prodotti sia intesa come brand, un posizionamento del design italiano che si è spostato sempre di più verso l'alto in termini di prezzi, l'internazionalizzazione quindi la necessità di vendere se vogliamo a destra e sinistra anche l'Europa, non solo nell'Europa stessa e anche un'attenzione se vogliamo ai temi dell'ambiente, del sociale, del buon governo, i cosiddetti ISG che sono partiti prima con il mondo finanziario e poi si sono spostati con una grande attenzione ai consumatori e soprattutto diciamo dei più giovani. Queste sono tendenze che c'erano già prima della pandemia. Post pandemia c'è stata un'accelerazione incredibile a trasformazione digitale e anche se vogliamo di nuove esperienze di acquisto verso un unico canale, la cosiddetta multicanalità, sicuramente una grande attenzione se vogliamo ai temi della qualità del design e del cosiddetto effetto gabbia. In paesi soprattutto come l'Italia ma anche in Francia, in Europa l'abbiamo visto, il fatto di stare a casa, scoprire i difetti della casa hanno portato sicuramente a un'attenzione verso il consumo che è stato molto importante e che in questi 4-5 mesi 2021 si stanno facendo vedere. Appunto, questo è molto interessante. Guardando appunto al futuro, quali progetti avete in cantiere voi come Italian Design Brands anche sul fronte acquisizioni come vi state muovendo? Allora, come sapete noi siamo nati proprio per fare acquisizioni, per cui per Italian Design Brands fare acquisizioni non è una crescita inorganica, è una crescita naturale. Il 2020 ovviamente non ha favorito la realizzazione di questo tipo di attività, anche se abbiamo fatto un'acquisizione di Flexa Lighting in febbraio 2020, però anche se digitalmente abbiamo incontrato tantissimi imprenditori. Non nascondo che è un modello che piace, è fatto di un club di ottimi amici, di persone che continuano poi a gestirsi le società, i nostri imprenditori anche se in minoranza continuano a fare i CEO delle proprie società e quindi questo club sta riscuotendo successo. Quindi questa semina che abbiamo fatto nel 2020 pensiamo che possa dare dei buoni frutti nuovi nel 2021, per cui oggi siamo 7 società e speriamo che queste società possano diventare almeno 8 e se non 9 nel 2021. Incrociamo le dita. Magari anche proprio con i trend che dicevi, penso ESG e tutti questi ambiti. Ma certo, ma anche perché diciamo il 2020, che poi è stato un 2020 a fortuna alterne, i primi sei mesi difficili ovviamente con la pandemia, ma poi nei secondi sei mesi tutte le nostre aziende, devo dire, che hanno registrato una buona crescita, la stanno registrando anche nel 2021, ma questo ha fatto capire che forse far parte di un gruppo e avere le spalle per così dire più larghe anche in termini di crescita di quei trend che ti dice probabilmente nazionalizzazione eccetera, favorisce secondo me l'aggregazione. Perfetto, grazie. Sicuramente poi un altro trend è quello del digitale. Passerei adesso la parola a Giorgio Gobbi, appunto Managing Director di Italian Design Brands, per chiedergli qual è stato l'impatto dell'evoluzione digitale in questo mercato e raccontarci un po' le sfide e le opportunità che ne derivano. Certamente. Diciamo che il digitale in senso lato era un trend già in essere nel nostro settore, ma a una velocità molto ridotta. La pandemia e il lockdown soprattutto di fatto ha cambiato le regole del gioco pluridecennali del settore, facendo un po' di facile cronistoria. Il settore del design è nato come imprenditori appassionati di prodotto, di forme e di contenuto che creavano le loro creazioni, le portavano al salone, i compratori venivano, dicevano che erano belle, le ordinavano e il lavoro dell'impresa era finita lì storicamente. Negli ultimi anni non era cambiata di molto il modello, salvo le aziende più grosse, un pochettino più evolute che puntavano sul brand. La pandemia di fatto ha cambiato completamente il paradigma. Il nostro calendario non è più da aprile ad aprile, da salone a salone, ma si è scoperto che si può lanciare un prodotto bene anche durante l'anno, da solo, non nella bulimia delle novità del salone e costruendoci intorno tanti contenuti e facendo un'operazione di vero e proprio lancio sul mercato, non di mera presentazione. Questo sta completamente stravolgendo il settore e verosimilmente è uno degli effetti, non l'unico, che resterà anche quando ci saremo dimenticati tutta questa faccenda del coronavirus. Un'altra cosa abbastanza importante che ha cambiato la fisionomia, sta cambiando la fisionomia di molte aziende del settore, è che da solo prodotto o prodotto e comunicazione tradizionale, le aziende devono promuovere il brand, quindi devono creare contenuti e quindi devono affiancare una capacità editoriale e di traduzione in forma digitale dei valori del proprio brand. Esercizio che era patrimonio soltanto delle poche grandi e più evolute da un punto di vista organizzativo. Adesso è diventata una regola del gioco, condiziosi ne qua non. E' stata una bella rivoluzione. Trovare la giusta interazione appunto con l'utente, che è un'interazione digitale a cui queste persone non erano ovviamente abituate. Prima appunto si parlava di fusioni acquisizioni. Nel post-covid quali caratteristiche secondo voi sono essenziali, appunto essendo stati molti cambiamenti anche nelle imprese a cui guardate voi? Ma francamente non abbiamo cambiato i parametri con cui guardiamo e selezioniamo le aziende. Anzi, devo dire che come accennava prima Andrea, dopo sei anni di questo progetto, quella che all'inizio c'era una formula sulla carta e dove cercavamo di costruire, sei anni dopo è diventata messa in pratica il tipo di aziende, il tipo di imprenditori che abbiamo selezionato, gli imprenditori che sono rimasti a capo delle loro aziende, quindi il DNA e le fondamenta del gruppo hanno dimostrato di funzionare e anche di funzionare piuttosto bene, come tutti i risultati che abbiamo fin qui portato possono dire. E quindi di fatto non abbiamo cambiato i criteri di selezione, piuttosto abbiamo rafforzato alcune delle attività che facciamo centralmente al servizio delle nostre aziende. Ovviamente il digitale, salva san dire perché ne abbiamo parlato fino a due secondi fa, ma per esempio anche la capacità di supportare su mercati importanti e remoti le nostre aziende. Recentemente abbiamo, diciamo un anno fa, aperto la filiale in Cina, Suzhou, che va su... Io lo chiamo il nostro traduttore culturale per il mercato cinese, più che una filiale commerciale, che è a servizio di tutti i nostri marchi che hanno voluto aderire, cioè tutti, da noi sempre su base volontaria. Abbiamo aperto adesso inizio giugno la filiale a Londra e abbiamo appena avviato i lavori per far partire anche una filiale commerciale negli Stati Uniti, quindi digitale e supporto commerciale alle aziende. Quelle che stiamo guardando o che ci chiedono di entrare, perché ormai siamo un po' di conoscenza nel settore che abbiamo costruita, fondamentalmente guardano a queste possibilità, oltre alla possibilità di fare gruppo e quindi di essere parte di qualcosa più grande dell'impresa da sola. Perfetto, grazie mille. Ringrazio nuovamente Giorgio Gobbi, managing director di Italian Design Brands e Andrea Sasso, chairman e CEO di Italian Design Brands per essere stati con noi su Sutil Flower. Grazie mille. Grazie a te.